Si è tenuta ieri presso il relay Sto San Pietro la presentazione del nuovo cortometraggio L'Alba che sarà girato nei prossimi giorni a Taranto. Il corto, con la regia di Giuseppe Lanzillotti, è prodotto da Megasystem SRL e produzioni cinematografiche. Questo cortometraggio ruota intorno ad un tema molto importante nella società di oggi, quello dell'abuso di alcol, specialmente da parte dei giovanissimi. Co-protagonista del corto è la famosa attrice comica Emanuele Aureli che nelle vesti di mamma manda un messaggio molto importante che è quello del dialogo con i propri figli per educarli a vivere nella società affrontando la vita in modo sano. Protagonista del cortometraggio è Andrea, una giovane promessa del calcio che non ha vita facile né a scuola né in campo e che cade appunto nelle tentazioni dell'alcol. Di seguito l'intervista a Emanuele Aureli. Siamo contentissimi perché veramente si respira una bella atmosfera. Il regista Pino Lanzillotti è fantastico e ci sta dirigendo al meglio e quindi è una bellissima esperienza che ti arricchisce come tutte quelle quando uno ama questo mestiere. e quindi è una bella sceneggiatura che fa riflettere molto. Speriamo che questa sia una campagna di sensibilizzazione proprio per tutte quelle situazioni insomma disperate di bambini che comunque essendo anche in tenere età non riescono a comprendere ovviamente la gravità dell'alcol e quindi bisognerebbe cercare di rieducare le famiglie e cercare di impedire a questi bambini di farne uso insomma perché ci sono dei tragici epiloghi rispetto riguardo a questa cosa e quindi speriamo che riusciremo a fermare sensibilizzando attraverso un cortometraggio che ne parla queste realtà perché è una realtà comunque che non ci vuole però esiste purtroppo. Purtroppo